Avrebbe dovuto cambiare appartamento questa settimana, tutto era già pronto per trasferire la sede di quella scuola di musica che era diventata la sua vita e che condivideva con tanti allievi. Non ha fatto in tempo Monica Prendina ad entrare nelle nuove sale della scuola di musica perché sabato mattina in via Arnaldo da Brescia, un incendio divampato ancora non si sa per quale causa, ha distrutto la casa facendo crollare il tetto e lei è morta carbonizzata. Il racconto di Echia ha cercato di salvarla è terribile, un suo vicino di appartamento dice di aver sentito intorno alle nove del mattino come un rumore, un tonfo terribile, come di qualche cosa che crollava. È uscito fuori sul balcone ed ha visto Monica aggrappata alla cancellata chiusa che chiedeva aiuto, dietro di lei le fiamme. Non sono riuscita ad aiutarla, ha detto, l'ho vista morire. A dare l'allarme a vigili del fuoco, guardie di finanza che di vicino in piazza Turati hanno la sede, una sua allieva che va a appuntamento per una lezione con Monica alle nove. Ha visto il fumo uscire, ha capito che qualche cosa non andava. Ha chiamato i soccorsi, ci sono volute tre squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme ed evitare che si propagassero agli altri appartamenti e dalla corrozzeria che si trova al pian terreno. Sembra che nell'appartamento ci fossero delle stufe a legna e anche il soffitto dell'appartamento avesse travi in legno a vista. La scintilla potrebbe essere scattata da lì. Il batterista che ha tentato di salvarla si trova in ospedale per le ferite riportate. Monica Prendin, violenista e musicista molto conosciuta in tutto il Piemonte, aveva fondato la Tambour Voice Music Studio Next School in cui insegnava ogni giorno. Aveva studiato il conservatorio di Alessandria, era sempre stata presente alla maratona che il conservatorio organizza ogni anno insieme agli istituti della rete per la formazione musicale di base.